L'Ordine dei Medici di Oristano invita tutti alla vaccinazione. L'ASL di Oristano riceve una preziosa fornitura di dispositivi di protezione individuale. Ancora polemiche sull'apertura del punto di primo intervento di Ghilarza. Con i lavori in corso, a rischio la vifauna di Rio Tanui. Benvenuti. Sono 31 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati oggi in Sardegna. Per un incremento complessivo di 4.473 test rispetto al dato precedente e con una percentuale dello 0,69%. Si registrano due nuovi decessi e 214 nuove guarigioni. Sul territorio della provincia di Oristano si registrano tre nuovi casi. Lo ricordo che questi sono i dati ufficiali forniti dalla regione Sardegna pochi minuti fa. Parte dall'Ordine dei Medici di Oristano l'invito alla vaccinazione per tutti. Sentiamo. Il vaccino funziona. Questo ha comportato una riduzione del 98% di contagi tra di loro, rendendo gli ospedali e gli ambienti sanitari sicuri. Al momento la vaccinazione resta, senza dubbio, l'unica arma per fermare la pandemia. I vaccini hanno sconfitto tante tragedie, dal vagliolo alla poliomielite, che moltissime vittime hanno mietuto in passato. Ed i vaccini attuali, indipendentemente dalla loro tipologia, riusciranno a mettere sotto controllo e vincere la pandemia in atto. Vaccinarsi, quindi, è un atto d'amore verso se stessi e verso gli altri, affermano i medici. Una persona non vaccinata è una sconfitta, una persona che non si vaccina è un esercizio commerciale che chiude, un'attività che non riapre, un posto in ospedale occupato, un pronto soccorso in difficoltà, una visita specialistica assaltata, ma anche la propria vita a rischio, la vita dei propri cari in pericolo. I medici si stanno impegnando al massimo, al lab, tanti di essi stanno vaccinando la popolazione, rientrando dalla pensione o sospendendo la propria attività, perché sono convinti che la mobilitazione di tutte le forze sia cruciale, da parte del personale sanitario, medici, infermieri, amministrativi e volontari, da parte della politica e delle amministrazioni, ma anche e soprattutto da parte di tutti i cittadini. Ma nonostante questo i numeri delle vaccinazioni in Sardegna restano ancora bassi. Sentiamo. La Sardegna resta sempre negli ultimi posti nel programma delle vaccinazioni, mentre in altro servizio parliamo della guerra tra bande della sanità oristanese e delle inchieste disposte dalle procure di Oristano e Cagliari per quanto riguarda i numerosi casi di favoritismo nella campagna di vaccinazioni. Parenti stretti e lontani, amici degli amici, hanno saltato le liste d'attesa e sottoposti a vaccino ed ora medici e infermieri si trovano sotto inchiesta in un momento estremamente delicato per l'esercizio della propria funzione. Mondo della sanità sarda che, come altrove, resente di mali antichi, fatti di carriere fulminanti e privazioni che impediscono il dispiegarsi di energie positive. Sistema delicato quello della sanità, che solo in parte è stato appagato con lauti riconoscimenti finanziari, che comunque hanno riguardato medici e infermieri premiando quelle figure apicali che la politica ha chiamato a dirigere e amministrare la sanità sarda. Parliamo ancora di sanità. L'ordine dei medici di Oristano, attraverso un comunicato stampa, esprime i propri dubbi sull'avvio e sul funzionamento del punto di primo intervento di Ghilarza, che, come ricorderete, è stato inaugurato lo scorso 1 maggio e gestito da una società privata attraverso il ricorso ai cosiddetti medici in affitto. Nella nota destinata ai vertici regionali, il Presidente Antonio Sulis esprime preoccupazione per le ripercussioni che le eventuali carenze amministrative e organizzative potrebbero avere sui sanitari e sui pazienti. In particolare si chiede di conoscere l'iter amministrativo che ha autorizzato il funzionamento del PPI del DeLogu e sulle modalità operative dello stesso. E ancora l'ordine dei medici chiede di conoscere i nominativi dei sanitari operanti nello stesso, i rispettivi titoli accademici e le qualifiche professionali specifiche. Ancora sanità, l'aslo listanese ha ricevuto un'importante e preziosissima fornitura di dispositivi di protezione individuale. Sentiamo da chi sono stati donati. 9.000 guanti e 500 mascherine FFP2 sono stati donati sabato 8 maggio all'Ase Doristano dall'Associazione SLA, un'isola nell'isola nell'ambito dell'iniziativa Stringimi. Un progetto musicale che ha avuto come protagonisti diversi artisti testimonial di una raccolta fondi mirata a sostenere le strutture sanitarie nel corso dell'emergenza Covid-19. I dispositivi saranno distribuiti equamente all'unità operativa di medicina interna dell'ospedale San Martino e al lab vaccinale. Assenti per impegni lavorativi il commissario stravenario Antonio Cossu e la direttrice del servizio di igiene e sanità pubblica Maria Valentina Marras hanno voluto far arrivare il loro ringraziamento ai donatori. Ringraziamo di cuore l'Associazione Un'isola nell'isola e tutti gli artisti che con un gesto di grande generosità si sono messi a disposizione di questa causa, oltre che tutti i cittadini che hanno contribuito con una donazione. L'emergenza non è ancora finita, non dobbiamo abbassare la guardia e non dobbiamo dimenticare il lavoro faticoso e costante dei nostri operatori sanitari. I cittadini uristanesi vaccinati in occasione del V-Day organizzato presso l'ospedale San Martino nelle giornate di domenica 28 marzo con la somministrazione della prima dose e domenica 18 aprile con la somministrazione della seconda dose potranno ritirare il proprio certificato di vaccinazione, nel caso in cui non lo avessero ancora fatto, presso la sede ASL di via Carducci. Voltiamo pagina, cambiando argomento, Torre Grande per l'undicesimo anno consecutivo è bandiera blu. Sentiamo. Anche quest'anno Torre Grande si è giudicata la famosa bandiera blu. Questa mattina, durante una conferenza da remoto, il premio è stato consegnato a 200 località rivierasche e a 21 porti turistici che potranno dunque freggiarsi della bandiera blu 2021. Soddisfazione per l'ottenimento dell'ambito riconoscimento è stata espressa dal sindaco d'Uristano Andrea Luzzu e dall'assessore all'ambiente Gianfranco Liccheri. 11 anni consecutivi di bandiera blu danno un significato particolare a questo riconoscimento. Questo premio della FE tiene conto di 32 parametri molto importanti che vanno dalla qualità dell'acqua, dai servizi offerti nella borgata marina. Certamente aiuta molto anche l'immagine sia della nostra città che di Torre Grande, specialmente sia ai fini turistici, sia ai fini delle attività che ruotano attorno a questa località marina. Per noi uristanesi è molto importante. È l'undicesimo anno, questo vuol dire che abbiamo lavorato bene, riuscendo a tenere in modo costante un livello di qualità importante. Tra gli elementi presi in considerazione, la qualità dell'ambiente. La qualità ambientale senz'altro è riconosciuta, la qualità dei servizi sia per i residenti che per i turisti. C'è da dire una cosa molto importante, a presto si avvieranno dei lavori completamente di ristrutturazione urbanistici della nostra borgata. Recentemente è stata affidata la progettazione definitiva che riguarda il rifacimento completo del lungomare. Il finanziamento è a disposizione, speriamo di definire in tempi brevissimi tutte le operazioni che ci possano portare all'inizio dei lavori. Torniamo a parlare di sanità, perché già un po' anticipato nei servizi precedenti, non accenna a placarsi, nonostante l'emergenza sanitaria in atto, la guerra all'interno del sistema sanitario sardo. Sentiamo i dettagli. Quella in atto nella sanità oristanese potrebbe definirsi una guerra tra bande, condotta senza esclusione di colpi e in un clima di tutti contro tutti. Di lineare c'è solo l'inchiesta disposta dalla Procura della Repubblica per far luce sul perché decine di persone sono state vaccinate senza rispettare alcun protocollo, quando invece dovevano attendere il proprio turno. Poco meno di 20 tra medici e infermieri sono finiti sotto indagine, mentre avanza anche l'inchiesta promossa dalla Procura di Cagliari per gli stessi episodi che sarebbero avvenuti nel capoluogo regionale e nel sud Sardegna. A rendere più vibrante la tensione d'Uristano, si aggiunge alla richiesta di destituire il commissario dell'azienda sanitaria locale, nominato di recente. Si tratta di Antonio Francesco Cosso, richiesta avanzata dal Presidente della Commissione regionale alla sanità, Domenico Gallus, con una interrogazione firmata da tutto il gruppo dell'Udc. Cosso avrebbe contestato le procedure seguite per la riorganizzazione dei servizi nell'ospedale di Ghilarza. Purtroppo a farne le spese di questa, chiamiamola guerra, all'interno del mondo della sanità naturalmente sono sempre gli utenti. Adesso parliamo di politica, martedì riprendono i lavori del Consiglio regionale Sardo. Consiglio regionale ancora impegnato nella discussione della legge 107 che prevede la costituzione di uno staff funzionale al Presidente della Giunta. Una misura difficile da digerire da parte della minoranza che in questi giorni ne ha aspramente contestato i contenuti e le finalità. Si può comunque dire che questa nuova impalcatura di indirizzi operativa vuole superare alcuni ingranaggi del modo di procedere di uffici e servizi regionali, molti dei quali resi inaccessibili non solo al pubblico ma anche agli stessi eletti in Consiglio regionale e agli assessori. Viene introdotto un sistema apicale con responsabilità graduali ispirate alla trasparenza e all'operatività della macchina regionale. Molto dipende dal grado di preparazione delle figure che avranno la fortuna di entrare in questo giro, ma questo è tutto un altro discorso. Le squadre di Abano hanno in programma un intervento di manutenzione negli impianti di via Pergolesi a Oristano, dove è presente un serbatoio alimentato da un pozzo al servizio della zona circostanze. Nel dettaglio sarà sostituito un tratto della tubazione del pozzo e inserite nuove apparecchiature idrauliche. I lavori saranno eseguiti dalle 8.30 alle 12.30 e durante questa fascia oraria potrebbero verificarsi cali di pressione e temporane interruzione nelle zone circostanti agli impianti. C'è un rischio concreto per la vifauna del rio Tanui, che possa essere compromessa dai lavori in corso. Il rio Tanui è uno degli affluenti dello stagno di Cabrasa, nel quale si riversa, dopo aver attraversato parte della valle sinistra del Tirso, ed aver raccolto le acque dei canali di bonifica e con esse anche gli scarichi che vi si riversano. Acque non certo cristalline, ma comunque non in grado di creare alterazioni all'habitat naturale dello stagno, che con i suoi 2.800 ettari di estensione è ancora in grado di sopportarne l'impatto. In questi giorni, nei peressi di Cabrasa, le rive del corso d'acqua sono interessate da un intervento di polizia che risulta in capo al consorzio di bonifica di Oristano. Le immagini documentano come l'intervento abbia fatto tabula rasa della vegetazione attraverso l'uso di un mezzo meccanico che senza tante storie ha rapidamente livellato tutto facendo comunque scempio delle nidificazioni in atto lungo le rive da parte di diverse specie ornitologiche. Aspetto non di poco conto che dovrebbe essere controllato dalla forestale poiché in aree sensibili come quelle prossime ai corsi e agli specchi d'acqua gli interventi dovrebbero avere una caratura diversa rispettando la vifauna presente che è risorsa preziosa. Restiamo ancora a Cabras, la giunta comunale di Cabras in collaborazione con la direzione scolastica dell'Istituto Comprensivo e con il servizio di igiene pubblica dell'ASL di Oristano ha predisposto un'iniziativa dedicata al mondo della scuola e volta al contenimento dell'epidemia da Covid-19. Sentiamo ancora i dettagli nel nostro servizio. Al via a partire da oggi presso le strutture scolastiche di Cabras dalla scuola dell'infanzia alle scuole secondarie di primo grado l'iniziativa volta al contenimento dell'epidemia da Covid-19 promossa dalla giunta Abis in collaborazione con la ASL di Stanese. Negli ultimi giorni l'andamento dei contagi da coronavirus purtroppo è in aumento e ha coinvolto anche le scuole ha affermato il sindaco Andrea Abis. Con questo intervento di screening esteso a tutta la popolazione scolastica si potrà realizzare un'operazione importante per la prevenzione della diffusione incontrollata del Covid-19 e dunque per la salute di tutti. Il personale sanitario ATS effettuerà il tampone con test rapido a tutti gli alunni per i quali la famiglia avrà espresso il consenso informato. I test si effettueranno in un'aula appositamente adibita con la costante presenza e il supporto del personale scolastico. Qualora si verificassero casi di positività verrà immediatamente contattata la famiglia dello studente coinvolto che attenderà l'arrivo di un genitore nell'area individuata per l'isolamento. Il servizio di igiene pubblica doterà poi i necessari provvedimenti per il tracciamento dei contatti, si occuperà di telefonare chi dovrà effettuare il tampone molecolare e disporrà la quarantena sanitaria. Anche gli alunni delle classi che al momento sono in quarantena verranno convocati per lo screening. A loro, ha aggiunto il primo cittadino cabrarese, verranno comunicati un orario preciso e le modalità di presentazione. Invito tutti i genitori a collaborare, è indispensabile che diano la loro adesione per la salvaguarda della salute dei bambini. Spostiamoci a Solarussa, dove sono partiti i lavori di restauro della Chiesa Romanica di San Gregorio Magno. Fermi a causa della pandemia, anche la burocrazia ha fatto la sua parte. Martedì 4 maggio l'atteso sì. Al via dunque il cantiere per la sistemazione, il risalamento conservativo e il miglioramento dell'accessibilità alla Chiesa Romanica di San Gregorio Magno a Solarussa. Il progetto prevede un intervento per complessivi 150 mila euro finanziati interamente dalla RAS, con la programmazione territoriale, ha affermato il sindaco Mario Tendas. I lavori sono stati aggiudicati alla ditta Pava Giovanni di Arizzo. L'intervento prevede il miglioramento dell'accessibilità, la sistemazione della copertura, consolidamento del muretto di cinta perimetrale, consolidamento della vela campanaria e sistemazione degli infissi. I lavori dovrebbero concludersi entro l'estate. Le virus permettendo saranno comunque pronti per i festeggiamenti in onore di Papa San Gregorio Magno, che si celebra il secondo martedì di ottobre, ha concluso il primo cittadino di Sola Russa. Le piattaforme social sono diventate ormai un importante strumento per le imprese e per i lavoratori. E proprio a queste piattaforme sono dedicati webinar formativi dal titolo I Social per il Business promossi dal punto impresa digitale della Camera di Commercio di Cagliari-Uristano nell'ambito del progetto Eccellenze in Digitale curato da Union Camere e supportato da Google. I webinar sono previsti per mercoledì 12 maggio e sono gratuiti e rivolti agli imprenditori, al personale aziendale, ai tirocinanti d'azienda, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti. È necessario iscriversi online sui siti internet www.camcom.or.it dove possono essere reperite anche alcune informazioni utili. Questa era l'ultima notizia del nostro appuntamento con informazione. Vi lascio ora con le notizie nazionali. Grazie per averci seguito. Grazie per aver guardato il nostro canale! Grazie per aver guardato il nostro canale!